Tecnici istat al lavoro su incarico del governo, la composizione dei collegi elettorali con cui si andrà a votare le prossime politiche è attesa per gli inizi di dicembre. L'indice demografico sarà uno dei parametri chiave per la definizione. Non mancherà forse qualche manina pronta a scrivere la nuova geografia in ragione della forza sui territori. Non sono però attese significative novità nella provincia di Avellino ad eccezione dei collegi uninominali per la scelta dei futuri deputati. La provincia erpina come è noto si farà in due, Avellino e Alta Erpinia. Ogni collegio dovrà essere composto da una popolazione media di 250 mila abitanti ed ecco che la logica interviene nel disegno. Visto lo spopolamento demografico che l'Irpinia fa registrare consegni meno nei tassi di natalità e residenza, inevitabilmente almeno una ventina di comuni che appartenevano al collegio di Avellino, saranno trasferiti per riequilibrare i conti nel collegio Alta Erpinia. Quanti e quali lo stanno decidendo in queste ore i tecnici che disegnano i collegi dell'uninominale? Per il proporzionale invece Avellino e Benevento dovrebbero finire in un collegio unico. Come unico è probabile che sia il collegio uninominale per il Senato. Dal piano tecnico a quello politico, in queste ore ad Atripalda la sinistra con Fratoianni ribadisce il no ad alleanze col PD. E veniamo a Via Tagliamento dove il commissario Ermini incontra i segretari di circolo di quei comuni, 21, che saranno chiamati al voto la prossima primavera. Prima il congresso provinciale o prima i congressi di circolo? Ermini vuol partire dal basso e per questo stasera tirerà dritto rispetto alle contestazioni.